Salve a tutti vecchiarocci e benvenuti in questo mio nuovo video, sono LucaGrass89 Abituatevi a questa frase e la sentirete spesso nei miei video Quindi a quanto pare in questo video pochissimi minuti per farvi cliccare il tasto iscriviti Perfetto, vediamo cosa dire Dunque, potrei dire che ho sempre avuto il pallino di trasformare il mio canale YouTube in quello che dovrebbe essere per qualsiasi YouTuber diciamo una specie di diario virtuale, passatemi il termine, chiamiamolo pure così dove lasciare le proprie opinioni, i propri pareri personali su determinati argomenti Nel mio caso gli argomenti che tratterò riguarderanno videogiochi, film, serie tv e classifiche viste dal mio punto di vista Se vi interessa sapere il mio parere su determinati videogiochi o determinate serie tv basterà andare nella sezione sotto giudizio Se vi interessa invece sapere cosa contiene quel determinato videogioco al suo interno cliccate la sezione unboxing Se invece vi interessano le classifiche dettate dai pareri personali di un pazzoide cliccate la sezione graxpad Insomma ce n'è per tutti i gusti senza tralasciare assolutamente la sezione dedicata a determinati videogiochi a determinati gameplay e a quelle rubriche nuove o quei format nuovi fatti insieme ad altri YouTuber che sono state inventate da me Bene vecchie rocce io vi lascio sperando che abbiate già cliccato il tasto iscriviti sul mio canale e continuo a lavorare a nuovi video sperando di aver beccato il senso di avere un canale YouTube ovvero esporre le proprie idee personali in maniera social Ciao vecchie rocce! Ciao!